non vogliamo più una difesa condivisa con queste parole louis e valeria marchiano definitivamente la rottura si spacca il fronte del terzo piano da ora i barzan difenderanno solo loris e manuela e non sono solo queste le novità della giornata non solo nuovi legali per valeria e louis ma anche una nuova lettera anonima dallo stesso anonimo che giorni fa aveva attaccato manuela questa volta il destinatario della missiva è proprio louis ma il contenuto della stessa è al momento sconosciuto ehi non dimenticare di iscriverti a questo canale edermetalliter